Sono stati intercettati a bordo di una barca a vela a 16 miglia a largo di Otranto i 62 migranti di origine siriana che cercavano di raggiungere l'Italia. Il natante di 15 metri, partito presumibilmente dalla Turchia, è stato avvistato attorno alle 19.30 da un mezzo navale del reparto operativo della Guardia di Finanza. Ad insospettire i militari è stata la linea di galleggiamento della barca a vela che evidenziava un notevole carico a bordo. Per questa ragione è stato effettuato un controllo. Sotto coperta erano stipati decine di disperati e anche due minori le cui condizioni di salute non erano molto buone. Dopo aver fornito la prima assistenza a tutti i migranti che hanno dichiarato di aver pagato circa 5.000 euro per il viaggio, i militari hanno scortato il veliero nel porto di Otranto presso gli ormeggi della sezione operativa navale della finanza locale. Tutti i migranti messi in salvo sono 62, di cui 60 uomini adulti e due minori visibilmente provati dalla navigazione durata almeno 5 giorni. Nel porto i migranti hanno ricevuto la prima assistenza da parte dei sanitari del 118 e dai volontari della misericordia. Poi per loro è stato disposto il trasferimento nel palazzato dello sport di Alezio. L'imbarcazione è stata sequestrata mentre i due scafisti di nazionalità georgiana di 37 e 38 anni sono stati arrestati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina.